investire in cripto si ma dove di exchange ce ne sono tantissimi più o meno famosi e ne nascono ogni giorno fuori nuovi come funghi in un mercato in forte espansione poi sembrano non finire mai oggi ti vado a dire quale uso io e perché lo vado a usare e di notte ti faccio anche un mini tutorial di questa piattaforma cose semplici per farti capire per quale motivo preferisco questa alle altre perché oggi mi va così però ovviamente subito dopo la sigla a tutti e bentornati sul canale io risparmio sono pasquale il vostro amichevole risparmiatore ed investitore della porta accanto si torna a parlare di cripto ma in maniera trasversale perché ti vado a dire quale exchange io uso e perché ovviamente in un mondo in rapida espansione come questo potrebbero nascere nuove opportunità in futuro inutile negarlo ma nel presente perché dire il contrario mi trovo bene così e ti vado a dire anche perché tra l'altro se ti ricordi bene e l'ho citato in un video precedente come storage utilizzo un wallet fisico un cold wallet ma tengo poche piccolissime porzioni anche sulla piattaforma che quella che utilizzo per acquistare ed è quella di cui ti vado a parlare oggi quello che vado a fare è dopo aver accumulato un po' di cripto magari con costi di gas che sono scesi o transazioni che sono i minimi trasferisco i miei pochissimi quattrini sul ledger nanoex inutile ribadire che non si tratta di consigli per gli acquisti o consigli finanziari questo mi sembra obbligatorio dirlo visto che il mondo delle cripto è estremamente volatile ma anche perché queste sono mie semplici valutazioni e esperienze personali soggettive e ognuno ha le proprie esigenze oggi ti dico per quale motivo io utilizzo solo coinbase rispetto alla concorrenza se vuoi provare la piattaforma poi magari ti lascio qui il link per iscriverti che è affiliato ma è gratuito per l'iscrizione bene ora partiamo dalle basi chi è coinbase coinbase global inc con il marchio coinbase è una società americana che gestisce una piattaforma di scambio appunto di criptovalute e manca di un quartier generale fisico ufficiale la società è stata fondata nel 2012 da brian hamstring da fred hersham e da marzo 2021 era il più grande scambio di criptovalute negli stati uniti d'america per per volume di scambi il 14 aprile 2021 coinbase è diventata pubblica sulla borsa del nasdaq tramite una quotazione diretta si tratta di un'azienda enorme che ha più di 73 milioni di utenti verificati di 255 miliardi di asset sulla piattaforma in più di 100 nazioni diverse con oltre 2700 dipendenti insomma possiamo dire che non è la pascola eriganello snc per dircela buona poi in realtà si tratta di dati che ci indicano quanto grande sia un'azienda ed il fatto che sia quotata invece ci aiuta a capire se sia solida o meno e soprattutto che sia controllata considerato che un'azienda statunitense quotata sul nasdaq e per cui controllata dal sec ma la cosa fondamentale capito che sia solida ed è enorme e capire perché io la utilizzi preferendola alle altre piattaforme concorrenti per dirvi questo passaggio però non voglio parlare 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 ma vado al pc insieme a voi e vi spiego il suo utilizzo proprio per farvi capire perché per me è meglio delle altre bene bene eccoci qui sulla piattaforma di coinbase ed ecco come si presenta allora quali sono le cose principali da guardare prima di tutto come vi dicevo io verso faccio quiz sulla piattaforma poi ho arrivato ad un certo punto me li vado a trasferire sul legger nano e qui faccio le varie transazioni sulla parte sinistra abbiamo i vari menu risorse effetto a transazioni effetto a pagamento per te apprendi e guadagna notifiche inviti amici e invia un regalo andiamo a vedere tutto assieme inoltre di recente hanno aggiunto il trading avanzato che andiamo anche a vedere in maniera molto veloce se si vogliono acquistare o vendere delle cripto si può semplicemente andare qui su acquisto vendi selezionare la tipologia di asset che si vuole acquistare selezionare con quale carta io diverse carte qui il valore è semplicemente acquistare con la propria carta ci sono dei costi di transazione che sono in base alla tipologia di strumento utilizzato quando si acquista so con carta ovviamente ci sono dei costi maggiori rispetto a quando si fa un versamento direttamente sul vostro conto coinbase magari con un bonifico bancario ed in quel caso i costi sono minori si possono anche convertire in maniera gratuita gli asset cliccando su converti se scegliendo la disponibilità che si ha in questo caso io al momento non ho niente da quale cripto asset a quale altro cripto asset si vuole convertire per esempio ad algorand facendo converti io non pago nessuna transazione perché è una transazione che viene all'interno di coinbase per cui questa è gratuita allora dicevo cosa mi piace di questa piattaforma principalmente la sua interfaccia è molto user friendly è semplice da capire diciamo anche senza nessuna conoscenza di questi asset si può capire in qualsiasi momento cosa si vuole fare le risorse sono le proprietà quello che si possiede in questo momento sulla piattaforma ma ovviamente in questo momento io non c'ho niente poi c'è una lista di controllo dove dove ci si possono inserire le cripto favorite comunque quelle che si vuole tenere sotto controllo io praticamente le ho tutte perché all'inizio non sapevo cosa fare le aggiungevo su effetti tra transazioni invece si possono effettuare transazioni di tipo diverso andando a selezionare le varie cripto sia in funzione della tipologia sia in funzione del loro della loro variazione in termini di ora giorno settimana mese o anno sia che questi siano negoziabili o semplicemente si vogliono andare a monitorare tutte le risorse poi magari andare a comprare in altro modo ad esempio su un'altra piattaforma o in altre tipologie di modalità poi c'è la sezione effetto al pagamento e per cui in questo caso si possono inviare i fondi a un indirizzo per esempio abbiamo dei bitcoin e li vogliamo inviare sul nostro crypto wallet fisico oppure se vogliono ricevere risorse per esempio bitcoin spostandoli dal vostro hard wallet coinbase e cliccando su ricevi si può fare appunto questa operazione su per te ci sono tutte quelle cose che sono funzionalità diciamo di servizio una funzione di istruzione dove si possono fare dei mini corsi sulle cripto ultime notizie su quelli che sono le varie novità appunto sul mondo cripto oppure ottenere più cripto valute magari facendo altre cose che andiamo a vedere adesso che sono le apprendi e guadagna in pratica i nuovi account di volta in volta vengono proposte dei quiz che sono di una semplicità disarmante nel senso dovete per forza prenderli perché se sbagliate vi fanno rifare il quiz finché non lo fate giusto per cui diciamo che sono dei regali della piattaforma io ad oggi da quando ho aperto il conto coinbase credo di aver incassato gratuitamente più o meno una settantina di euro 70 80 euro di cripto regalate da coinbase per cui anche se nella ipotetica cosa che non vi piace la piattaforma volete comunque avere delle cripto in maniera gratuita potete fare i quiz qui e poi trasferirvi sul vostro conto corrente non vi obbligano a tenere le cripto per un determinato periodo di tempo per cui la piattaforma è molto seria vi fa i quiz vi regala un po di soldini in cripto ma non vi chiede di chiedere di tenerli fermi sulla piattaforma sulle notifiche abbiamo tutto quello che possono essere le notizie magari delle cripto che abbiamo messo in botulist con delle variazioni di prezzo piuttosto importante con invita agli amici potete invitare una qualsiasi persona con un link affiliato a ottenere dei bitcoin gratuiti tra l'altro vi dico che in questo momento c'è l'offerta per un periodo di tempo limitato che ricevete 10 euro in bitcoin non 9 euro e 15 come dice qui se utilizzate il link affiliato che vi metto io qui sotto in descrizione e poi inoltre si possono anche inviare i regali per cui se avete un destinatario a cui volete regalare dei bitcoin o una cripto semplicemente con questo tasto potete andare a inviare dei regali come vi dicevo c'è anche una funzione di trading avanzato prima le due cose non diversificate invece adesso direttamente da coinbase normale si va al trading avanzato e in pratica in questo modo si può andare a fare proprio del trading avanzato se ad esempio a voi piace fare delle operazioni su delle coppie valutarie piuttosto specifiche potete andare a selezionare tutte le coppie avere la vostra lista di controllo oppure in base alla fiat di riferimento o alla stable coin di riferimento io non faccio prevalentemente trading però potrebbe essere per chi è interessato a questa tipologia di prodotto modo più semplice e veloce di fare del trading senza avere le due piattaforme divise con due app magari diverse vi ricordo che potete usare coinbase sia qui sul pc con una desktop version ma anche sul vostro telefonino con una app specifica io sinceramente trovo questa app molto immediata e molto user friendly e come molte cose io sono molto legato alla variabile tempo per me il tempo è veramente importante e non ho necessità di andare a perdere parte delle mie risorse temporali a cercare di imparare nuove cose che non sono core per il mio business voglio delle cose immediate voglio creare le mie attività in maniera veloce senza perdere tempo in una curva di apprendimento relativamente al mondo cripto che solo una piccola parte del mio portafoglio trovo questa piattaforma utile per i neofiti ovviamente vi ripeto che questi non sono consigli finanziari se volete utilizzare una piattaforma e volete comprare delle cripto prima di tutto andate a studiare per bene quello che state facendo perché questi asset sono estremamente rischiosi ed estremamente volatili e non sono per tutte le persone per cui dopo questa piccolissima introduzione alla piattaforma torniamo alla mia brutta faccia ed eccoci tornati qui al mio brutto faccione la piattaforma si può gestire sia tramite web che tramite app tranquillamente dal proprio cellulare come detto durante il tutorial la trovo di semplice utilizzo ed user friendly e in un mondo complesso come quello delle cripto sinceramente non mi va di andare a perdere ulteriore termo fa innumerevoli menu considerando il fatto che sono una persona che ha una fissazione quasi maniacale per il time management e per cui non mi va assolutamente di sprecare tempo inutilmente le file a mio parere sono contenute in base alla tipologia e la modalità di transazione di ricarica del conto si possono ridurre ulteriormente di tanto in tanto i costi di gestione cosa che per chi come me non investe somme o comunque praticamente quasi zero troppo alte in cripto fanno sicuramente gola bene fammi sapere cosa ne pensi tu di coinbase nella sezione qui sotto dei commenti e se la piattaforma la usi oppure no ed eventualmente se sei concorde con quanto ho detto io in questo video inoltre ti ricordo che se non sei già iscritto a coinbase puoi provare la piattaforma utilizzando il link che trovi qui sotto con il link affiliato e la provi in maniera completamente gratuita magari guadagnando i tuoi primi cripto senza spendere soldi o null'altro in quanto vai fare i quiz che ti vengono proposti subito dalla piattaforma con l'attivazione del conto se il contenuto è stato il tuo credimento ti chiedo come sempre per cortesia di farmelo capire lasciando un bel pollice in su che per me è come un bitcoin intero e poi se sei nuovo qui sul canale ti chiedo di iscriversi e di cliccare la campanella delle notifiche per non perdere nessun video successivo bene anche per oggi è tutto e noi ci vediamo un prossimo video ciao